Se in Lombardia sono 50.456 le imprese coinvolte nei festeggiamenti per Halloween, pari al 15,2% del totale nazionale, anche Cremona fa la sua parte, con 1.815 imprese interessate, pari allo 0,5% del totale nazionale. Lieve la flessione rispetto all'anno scorso, solo 4 attività in meno, per un calo dello 0,2%. In particolare in provincia ci sono 110 edicole, 52 cartolerie, 13 negozi di giocattoli, 498 ristoranti, 86 gelaterie e pasticcerie, 11 negozi di catering, 941 bar, 3 parchi tematici, 11 discoteche e nightclub, altre 90 attività di intrattenimento dove tutto è già pronto in vista dello scherzetto o dolcetto, proponendo articoli nel 58,6% dei casi importati dalla Cina. Sembrano tanti, in realtà Cremona risulta a quart'ultima a livello regionale, prima di Lecco, Lodi e Sondrio, ma preceduta da Milano, Brescia, Bergamo, Varese, Monzebrianza, Como e Mantua. A livello nazionale invece Cremona si colloca solo 71esima, sulle 103 città capoluogo considerate, poco prima di Piacenza, che ha rispetto a noi 22 imprese in meno. Insomma Halloween ha contagiato anche Cremona, questo è certo, anche se non lo si può ancora definire un fenomeno di massa, si può fare di più.